Come è la scuola di alta formazione? Questa nuova scienza che viene un pochettino da lontano, perché ne parliamo ormai da 100 anni circa, però l'epigenetica studia l'interferenza di tutto ciò che l'ambiente crea intorno, attenzione, ambienti in senso generale, non è che io parlo solo dell'ambiente dal punto di vista dell'inquinamento, l'ambiente è anche sociale, le delusioni, i contrasti sociali, i contrasti lavorativi, l'insoddisfazione familiare, tutto questo incide con una percentuale molto elevata sulla genetica. Tutto pensavamo che fosse legato alla genetica, ciascuno di noi pensava di avere caratteri giustamente genetici che arrivano dal padre, dalla madre, dai nonni, dai bisnonni, eccetera, eccetera. Sì, ma questi incidono per una percentuale veramente trascurabile, mentre tutto il resto incide per circa il 98%. Allora è chiaro che noi trattiamo argomenti di intubi interesse scientifico, certo, ovvio. Abbiamo scelto anche personaggi di altissimo livello, ognuno dei quali si è ritagliato una parte di questo corso importante di formazione, è una formazione vera e propria, passando direi da concetti che sono di base, penso ad esempio a come le energie sottili che sono state ormai dimostrate dalla fisica quantistica e quindi dalla medicina quantistica, come vanno a incidere sulle situazioni di ciascuno di noi. Ecco, allora è importante aver creato questa scuola di formazione, che come dicevo vive da qualche anno e ha avuto già dei grandi successi, quindi noi pensiamo che andremo avanti nella tradizione dei successi vecchi per creare veramente nuovi successi. Grazie. Grazie. Grazie.